Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale video totalmente diverso dal solito parliamo un po' di storia della serie B andiamo a vedere, come avete letto dal titolo e visto dalla miniatura tutti i precedenti capocannonieri della serie B dall'annata 2014-2015 fino a quella che si è conclusa pochissime settimane fa vediamo chi sono stati i capocannonieri vediamo se c'è qualcuno che si è ripetuto magari con gli anni che ha giocato prima in un anno in una squadra prima in un anno in un'altra e magari ha avuto l'opportunità di ripetersi i capocannonieri di serie B vediamo anche magari che fine hanno fatto questi calciatori molto probabilmente molti si sono ritirati altri magari giocano ancora e sono in attività ed è per questo che può essere un video interessante diverso dal solito poi domani, domani, dopo domani torniamo con le notizie di calcio mercato perché il calcio e il mercato di serie B va fortissimo anche oggi ci sarebbero tante notizie ma preferisco dirvela già nei prossimi giorni non dirvi troppe notizie sempre, ogni giorno può diventare poi stupo può stufare poi a lungo mi raccomando però prima di partire con questo video vi do chiedere un pollice in su qua sotto 30, 40, 50 mi piace qua sotto un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi mi raccomando iscrivetevi e noi partiamo subito partiamo però appunto dalla stagione 2014-2015 i due capocannonieri ragazzi sono stati Andrea Cocco e Andrea Castellani che quanti gol hanno fatto? Cocco 19 gol Catellani scusatemi non Castellani Castellani cosa dico Catellani invece ragazzi anche lui 19 gol con chi? Cocco li ha fatti con il Vicenza e Catellani con lo Spezia entrambi 19 gol entrambi però non sono arrivati alla famosa cifra dei 20 gol adesso che giocatori sono? Cocco gioca ancora a 37 anni è un attesserato dall'Albinoleffe Catellani ragazzi si è ritirato si è ritirato il 29 luglio 2017 quindi sono già 5 anni da ritiro del suo calcio giocato ha vinto una Serie B per l'appunto ha vinto anche però la classifica capocannonieri della seconda divisione italiana proseguiamo con l'annata 2015-2016 c'è Gianluca Lapadula che col Pescara raccolse la bellezza di 27 gol segnati Gianluca Lapadula lo sappiamo tutti che in Serie B è una garanzia un giocatore straordinario un attaccante capace di fare grandissime cose se mi ricordo bene quell'anno lì dopo aver fatto quell'annata straordinaria a Pescara per l'appunto condita da 27 gol ci fu poi il trasferimento al Milan il trasferimento al Milan non andò benissimo ma comunque fu un grande passaggio per la sua carriera e per l'appunto dimostrò a tutti che in Serie B lui è ancora tuttora un giocatore straordinario capace di fare la differenza quella lì fu incredibile con il Pescara 27 gol in Serie B sono tantissimi soprattutto sono sono stati tutti 27 gol importanti in un'annata straordinaria quella del Pescara quella lì in Serie B adesso quanti anni ha la Padula 33 anni ha giocato fino a poche settimane fa la Serie B però con la casacca del Cagliari e proprio nell'ultimo suono giocato in Serie B è stato capocannoniere ovvero perché per l'annata 2022-2023 è stato capocannoniere con 21 gol segnati 6 in meno rispetto ragazzi all'annata 15-16 con il Pescara ma comunque sempre più di 20 gol una garanzia una certezza chiamata Gianluca La Padula annato 2016-2017 ragazzi troviamo un capocannoniere che ha giocato nel Verona italiano Gianpaolo Pazzini una punta che forse in Serie B non doveva neanche mai giocarci per qualità tecniche e per spessore di giocatore ma quella non gli giocò per l'appunto con il Verona scelse di giocare la Serie B col Verona per riportare poi il Verona in Serie A segnò 23 gol quindi qualcosa di importantissimo segnando 23 gol più di 20 gol meno di La Padula l'anno prima abbiamo più di Catellani e Cocco l'anno due anni prima adesso Gianpaolo Pazzini ovviamente non è più un giocatore di calcio si è ritirato si è ritirato il 20 novembre 2020 ha vinto una Coppa Italia due volte una volta ha vinto la classifica capocannoniere in Serie B ragazzi e se non sbaglio come riporta Transfer Market ha vinto anche un campionato europeo Under-19 proseguiamo con l'annata 17-18 qua troviamo un giocatore che in questo momento è ancora in attività in Italia però in Serie A Ciccio Caputo che momentaneamente gioca in Serie A proprio con l'Empoli ma vinse la classifica capocannoniere in Serie B con l'Empoli sempre annata 17-18 condita da 27 gol un'annata straordinaria quella di Ciccio Caputo che riportò l'Empoli in Serie A con 27 gol fino adesso il marcatore con più gol insieme alla Padula nell'annata 15-16 27 gol sono tantissimi praticamente possiamo quasi dire che ha fatto 30 gol veramente annata importantissima così come per la Padula vale anche per Caputo una certezza una sentenza una garanzia in Serie B l'attaccante dell'Empoli annata 18-19 quindi entriamo nel periodo più recente possibile ci fu Alfredo Donnarumma come capocannoniere giocava nel Brescia con 25 gol segnati una cifra altissima tanto tanto alta inferiore rispetto alla Padula Ciccio Caputo ma comunque due gol di differenza Alfredo Donnarumma dove gioca adesso ragazzi gioca nella Ternana ha un contratto in scadenza 2025 bisogna vedere quello che farà l'anno prossimo se giocherà ancora a Terni ha vinto due Serie B e ha vinto anche ragazzi se non sbaglio come riporta Transfer Market un campionato di Serie C è uno che per vincere il campionato di Serie B in Serie C se ne intende è comunque un attaccante di garanzia di garanzia 32 anni negli ultimi anni ha fatto un po' più di fatica ma mi ricordo molto bene quell'annata a Brescia fu determinante nella cavalcata del Brescia in Serie A proseguiamo annata 19-20 ci fu un capocannoniere inedito perché ci fu Pietro Iemmello capace di fare 20 gol con il Perugia per l'appunto 20 gol sono tantissimi meno di Donnarumma di Caputo di Pazzini e di Lapadula ma più di Catellani e Cocco rispetto all'Anacera a un fatto capocannoniere nella 14-15 Pietro Iemmello che momentaneamente ragazzi è un giocatore è un tesserato del Catanzaro lo riavremo in Serie B quest'anno perché Cocca Tanzaro è stato grande artefice di questo clamoroso ritorno del Catanzaro in Serie B ha un contratto in scadenza 2025 siamo molto curiosi di sapere di vedere quello che farà in Serie B con Catanzaro può essere determinante nel cercare di dare una mano al Catanzaro per salvarsi quest'anno in Serie B un giocatore che la Serie B la conosce molto bene ha fatto tanti anni scelto di scendere in Serie C ma con l'obiettivo di riportare il Catanzaro in Serie B dopo due anni ce l'ha fatta un grande giocatore anche qui possiamo dire una certezza quasi una certezza Iemmello vediamo che tipo di contesto verrà proposta a Catanzaro che Rosa verrà il Catanzaro ma comunque il Catanzaro vuole fare una rosa importante vuole allestire una squadra importante per cercare di ottenere quantomeno una salvezza tranquilla e sono curioso di sapere cosa farà per l'appunto Pietro Iemmello capo canoniere nella nata 19-20 anche sempre nella nata 19-20 ci fu Simi Simi che in questo momento un giocatore se non sbaglio un tesserato ragazzi della Salernitana però un giocatore che si è un po' perso negli ultimi anni l'anno scorso ha fatto un prestito a Benevento condito da pochissime presenze e se non sbaglio anche nessun gol e per l'appunto Simi fece c'è quell'anno lì anche lui 20 gol andiamo a Natad 20-21 con Massimo Coda capo canoniere con il Lecce 22 gol segnati in questo momento Massimo Coda è un tesserato del Genoa che è ritorno in Serie A grazie ai gol ai pochi ma ai decisivi gol di Massimo Coda Coda però al 99% lo riavremo il prossimo anno in Serie B perché non dovrebbe fare la Serie A col Genoa su di lui ci sono Modena c'è il Modena molto interessato a farlo riapprodare in Serie B Massimo Coda 22 gol Massimo Coda che si conferma anche capo canoniere l'anno dopo ovvero due anni fa a Natad 21-22 sempre con il Lecce a quota 20 gol per due anni di file e capo canoniere in Serie B fu Massimo Coda quell'anno lì con 20 gol segnati Natad 21-22 raccolse anche la promozione diretta in Serie A vincendo il campionato con la squadra Salentina ultimo anno l'anno scorso ve l'ho già spoilerato è stato Gianluca Lapadula che ha fatto per l'appunto 21 gol è sempre anche lui una garanzia importante Gianluca Lapadula com'è una garanzia in Serie B Massimo Coda che inizia a farsi un po' avanti con l'età perché se non sbaglio è classe 88 per l'appunto 34 anni ha un contratto in scadenza 2025 con il Genomo al 99% per l'appunto giocherà ancora il prossimo anno in Serie B il prossimo anno avremo tanti bomber Coda tornerà a Iemmello vediamo Lapadula se va via da Cagliari e riapporto in Serie B ma non credo però Alfredo Donnarumma che potrebbe riprendersi a fare una grande annata ci aspetta comunque il prossimo anno una grande Serie B vediamo chi sarà capocanoniera del prossimo anno di questo splendido campionato pollicione sul video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi